senza fretta eccoci qui a presentare una nuova e lunga escursione un'escursione di quella che darà soddisfazione soprattutto a quelli che vogliono portare a casa un po di chilometri nelle gambe e anche un po di dislivello adesso devo ancora finire le misurazioni ma la davano per 22 chilometri e 700 metri di dislivello secondo me è un poco meno comunque si parla di tanti chilometri e anche un discreto dislivello stiamo parlando della via delle genti così si chiama questo lungo percorso che porta dalla bella intra fino a cannero riviera è un lungo lunghissimo percorso perché partiremo da susello arriveremo deccio poi al sacromonte di giffa attenzione patrimonio dell'unesco dal 2003 fa parte dei nove sacromonti che ci sono sparsi fra lombardia e piemonte da lì ripartiremo arriveremo a novaglio dove molto probabilmente lì faremo il nostro pranzo per poi ripartire arriveremo a barbe e poi ancora cadivecchio e poi fino arrivare qui a don ego don ego è proprio l'ultima frazione che visiteremo avremo sempre durante il nostro percorso il verbano sotto di noi saremo sempre coccolati dal sole posso dire che c'è un'esposizione al sole di circa il 95 per cento quindi è bello proprio d'inverno lasciarsi coccolare dal dal sole è tutto un percorso che si si snoda sui 400 metri più o meno di quota si ridiscende verso i 250 poi si risale a 400 poi si ridiscende è un continuo saliscendi comunque una vera meraviglia per gli occhi ma soprattutto anche per l'animo è un percorso da fare a passo lento si addice proprio al nostro gruppo noi siamo il gruppo senza fretta quindi chi meglio di noi può percorrere queste queste vie questa è la via delle genti io dico della via delle genti senza fretta quindi arriveremo in quel di cannero circa più o meno alle 5 del pomeriggio dopo esser partiti alle 9 e mezza da da intra e c'è la possibilità di anziché rientrare ad intra con nell'autobus delle 17 30 chi vuole potrà fermarsi anche nella bellissima cannero riviera a bere qualcosa a far l'aperitivo e rientrare con l'autobus successivo delle 18 30 lo consiglio perché cannero veramente è un incanto poter girare attraverso i suoi vicoli vedere l'imbarcadero insomma fare tutto il lungolago per chi non l'ha mai visto è un peccato tornarsene a casa senza appunto averlo visitato per bene io vi faccio vedere un attimino qui quello che vedono i miei occhi ma poi vi metto anche qualche foto di sovraimpressione per farvi così rendere proprio l'idea di quanto bello è questo percorso vi dico subito che ho deciso di chiamarlo la via delle genti e le cento chiese perché perché fra gli oratori e le chiese veramente io dico 100 è un modo di dire ma sono innumerevoli penso di averne viste almeno più di 20 oggi quindi ho deciso di dargli questo titolo così forte per far capire comunque che le chiese e gli oratori saranno presenti nella nostra bella escursione perciò a tutti coloro che vogliono fare un po di chilometri un po di fatica ma soprattutto a chi gli piace curiosare conoscere posti poco conosciuti qui siamo al di sopra di appunto 200 300 metri rispetto alla strada che passa sul lago tutti siamo bene o male passati per andare appunto a cannobbio piuttosto che a cannero da quella strada ma pochi pochissimi si sono spinti fin quassù anche perché qui le strade veramente sono piccole e talvolta e questi borghi sono irraggiungibili se non a piedi prendendoci la comoda prendendoci il tempo necessario come piace a noi per visitare curiosare contemplare la natura fare le nostre merende che non devono mai mancare e poi insomma conoscere bella gente io intanto vi aspetto qui alla via delle genti e delle cento chiese contattatemi ai numeri che vedete qui sotto di whatsapp whatsapp lo strumento che preferisco saprò darvi tutte le informazioni che avete bisogno per poter decidere di partecipare a questa bella escursione intanto io vi mando un caro saluto ciao ciao ciao